Ciao Damned Squall, ciao e bentrovato, ciao D1234 Dav, ciao Luci, ho fatto da Prime e la chat me l'apre solo al telefono, cosa intendi dire con ho fatto da Prime e la chat me l'apre solo al telefono, perdonami ma non ho inteso Cioè su Twitch mi apre la chat solo al telefono, cioè da PC non ti funziona? Mi sembra strana sta cosa Mi sembra quanto strana, mai sentito onestamente una cosa del genere, nel senso che io utilizzando il Prime che ho non ho problemi a visualizzare la chat da PC, da telefono, da tablet o dove sia Prima settimana con solo web app, quanti crediti pensi che farai? Musco Yup Dipende, secondo me, da rilascio o meno delle famose 10 ore anticipate e soprattutto dalle carte che troviamo nei pack omaggio in fase di rilascio della web app Ecco Però mi auguro tantissimi Mi auguro tantissimi Mia, io ho l'impressione che quest'anno molti giocatori di SBC non servono più di tanto, visto che l'intesa non conta come l'anno scorso Dipende, ci sono SBC e SBC Cioè io penso che le carte, scusate le carte, le SBC che usciranno più piccole avranno comunque sia requisiti di intesa Hai risolto, ottimo, meglio così Dav, meglio così Mi sembrava strano un po', eh, sta cosa Tortura, madonne Ciao Lucio Per me che il mio ultimo foot è stato il 20 Quando verrà rilasciata la web app? Dovrò fare qualcosa per averla? O finché non apro foot 23 la prima volta non potrò usarla? Allora in realtà non ti basta, allora avrai sicuramente il mercato bloccato in foot 23 Ma non basta poi avere FIFA 23 e accedervi Dovrai giocare, ok? Non c'è una tempistica precisa per lo sblocco del mercato Può essere che se sei fortunato in 15 giorni ti aprano il mercato di web app perché magari hai un account che ha una certa vecchiaia, ok? E quindi magari con l'assenza di due anni ti aprono la web app prima Oppure può essere che ci voglia un mese o due per il rilascio del mercato aperto Quindi dovrai semplicemente giocare Chiunque ti dica gioca una raivas giornaliera, gioca uno squad battle giornaliera Sono boiate purtroppo, sono boiate Sto già a... Se in sottofondo sentite trapanare, bastonate, trivellare eccetera Ho i muratori nel piano di sopra in casa, quindi abbiate pazienza qualche giorno ancora Sto già studiando qualche ora comune da farci mass bidding o troppo hype? Ancora un po' presto perché non abbiamo, non abbiamo gli overall delle, delle carte più economiche Quindi quelle su cui faremmo i primi movimenti Dav, posso farti una domanda di scusione nuovo? Certo, dovete ragazzi Allora, sia le mie live giornaliere prevedono sempre una tempistica di domanda risposta Quindi da me potete sempre farmi le domande che volete A maggior ragione in questi giorni prima che partiamo Quindi devi, devi, Dav, devi fare domande Quindi l'unico modo per averla subito era aver giocato al 22 L'unico modo per avere l'accesso alla web app fin da subito Era aver giocato FUT22 E aver già sbloccato il mercato in FUT22 Salvuccio, ciao, ho Amazon Prime Vorrei fare l'abbonamento al tuo canale come faccio a soffrire del Prime Allora, prima cosa, devi collegare Prime a Twitch In modo tale che il tuo account Twitch diventi Twitch Prime Per farlo è molto semplice Vai nella sezione del tuo profilo Twitch Ci sarà una voce negli collegamenti per collegare Amazon Diventerai utente Prime Ok, Twitch Prime E in quel momento potrai fare l'abbonamento gratuito al nostro canale Dav, sono abbonato sia a te che al canale di John Fondatore Come funziona? Io vi seguo in modalità non abbonato l'anno scorso Darai più o meno i stessi consigli di John Anche tu hai un canale Telegram, saluto sia Discord, grazie mille, scusa Allora, sicuramente indicativamente sarà la stessa roba Io ora conosco John, ho avuto piacere anche di incontrarlo l'anno scorso a Milano Ma non so cosa faccia nel suo canale sub Ti posso dire come funziona il mio, il nostro Da noi molto semplicemente anziché usare Telegram usiamo Discord Che è un'altra app di messaggistica, banalmente Molto 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 comune nel gaming, il Discord Una volta che sei abbonato, quindi adesso che sei abbonato Ti basta scrivere in chat, punto schiamativo Discord Entrando nel canale Discord Vedrai messaggi giornalieri da parte mia Dal momento in cui ci sarà il rilascio di FIFA 23, della web app, eccetera Dove darò consigli di compravendita Il primo periodo sono consigli più generici Perché non essendoci promo, non essendoci SBC particolari Non potrò darvi nome, prezzo, eccetera, eccetera Al contrario, dal momento in cui ci avviciniamo alle prime promo Primi eventi, prime SBC più interessanti, eccetera, eccetera Avremo, cioè, la mia impostazione è fornire Nomi dei giocatori che consiglio da comprare Prezzi per le varie console di riferimento Motivi di acquisto Tempistiche di vendita, eccetera, eccetera PC8, ciao, grazie per il prime Ben trovato Il secco, ciao I FIFA points di FIFA 22 li ricevo Quando entro la web app o quando entro nel gioco? No, su web app no Quando farete il primo accesso a FIFA 23 Ultimate Team su console Vi farà un banner Ci sarà un banner che vi dice Attenzione, vuoi trasferire i FIFA points che hai in FIFA 22 su FIFA 23? Mettendo sì, ve li trasferisce Ma non saranno disponibili su web app Grazie Salvuccio, grazie a te Mi hai, che ruolo avranno le icons secondo te, Luccio? Visto che già saranno giocabili, pochissime card Io penso che sarà come l'anno scorso Come lo scorso anno E anzi, anzi, anzi Anzi, anzi, anzi Potrebbero essere ancora un po' più economiche dello scorso anno Quindi potrebbe esserci Una prezzistica Delle icon meno usate Ancora più 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 bassa rispetto allo scorso anno Dav, grazie mille Comunque era solo per dire che vi seguo entrambi Senza competizione Mentre ci sono i miei preferiti Grazie, grazie Ma Io penso John è uno dei più famosi in Italia Che fa Compravendita Per cui Ci sta che Segui lui Prova con noi Mi auguro Tu ti troverai bene E Ho piacere Ad averti qua con noi Ciro Bianco Ciao Luccio, secondo te Per la questione della nuova intesa Almeno all'inizio SBC Sarà interessante Buttarsi sui cambi ruolo? Allora Abbiamo parlato ieri Dei cambi ruolo Il discorso cambi ruolo Può essere molto interessante Quello che va a pesare Sull'interesse del cambio ruolo È La rarità Che danno alla carta Quindi Sarà una carta Oro comune Oro rara Prima cosa E seconda cosa Dal drop Che avrà Quella tipologia di carta Quindi Potrebbero essere interessanti Saranno da tenere d'occhio Valuteremo Francesco Com'è non c'è più lo sconto di FIFA Nel menu principale Allora Onestamente Non apro FIFA Da Da un po' di tempo Quindi non so Se per esempio Da me c'è o meno C'era L'ultima volta Che sono entrato Quando ho fatto il preorder Della Ultimate Edition Parliamo di Ormai tre settimane fa Non vorrei che avessero Lasciato il banner Solo Fino al 21 agosto Perché sapete che Il 21 agosto Era l'ultimo giorno disponibile Per Ultimo giorno disponibile Per avere Il preorder Della Ultimate Con La carta Foot Heroes World Cup Inclusa nel prezzo Questa È una ipotesi Swarp Sono sempre andato Un po' prudente Quest'anno mi affido Totalmente Vado lì Senza paura Guarda La paura Non ce la devi avere Perché Per fortuna Parliamo sempre Di crediti virtuali Quindi Cioè Se Un'operazione Dovesse andar male Mi mandate A fanculo E si riparte Il giorno dopo Cioè Non potete pensare Che il 100% Delle operazioni Vadano bene Perché Non c'è mai Una certezza È chiaro che Ci saranno momenti In cui anch'io Magari vi posso consigliare Di andare all in Momenti no Poi valuteremo insieme Secco Che palle aspettare Fino al 27 Per spendere 20.000 F-point Senza poter Aprire i pacchetti Eh Lo so Però È così Sarebbe divertente I primi giorni Di web app Se Nessuno Avesse Accesso Eh Se nessuno Avesse accesso Alla Al gioco Completo Così che tutti Partiamo dal Non aver niente Ciao Sirpago Siamo ripartiti Ieri Sì sì Ripartiti E Non vedo l'ora Che arrivi La web app Francesco Fino a qualche giorno Fa c'era lo sconto Ora non esce più Eh Non vorrei che Avessi tirato troppo La corda Spero che Torni indietro Sta corda Non ti so dire Onestamente Non ti saprei dire Dovresti magari Confrontarti con Dei tuoi amici Se anche loro Hanno O meno Ancora Il banner Magari Semplicemente Se loro ce l'hanno Puoi provare A farlo da loro Direttamente Anthony Ciao Lucio Spero che Uscirà la carta Di Kfarapot Su FIFA 23 Diventerebbe Il mio primo obiettivo E Sarà sicuramente Una carta Super economica E potenzialmente Interessante Per uno starter team Serie A Perché ha Quei Allora A causa della sua Nazionalità E Della squadra Purtanto Purtroppo Ci sono pochi Giocatori del Napoli Interessanti Per una starter team In foot Cioè abbiamo Probabilmente Zielinski E Di Lorenzo O Osiman Quindi magari Fare un triangolo Con Con Kvaraskely Potrebbe essere Interessante Poi Oh Il primo Potma Serie A Lo vogliamo Che cazzo Strameritato Comunque Diciamocela tutta Se la giocava Ce n'erano Due o tre Di giocatori Che potevano Secondo me Ambire al premio Però Cioè Nulla da dire Però come dicevo Non ho Certezza Nella sua Nel suo rilascio Della SBC In FIFA 23 Perché Ad oggi Mancano ancora 20 giorni Mi piace molto Quando dai filtri Previsioni Ad esempio Su Instagram Ah beh Considera che Adesso che sei abbonato Su Su Discord Ce ne saranno Molti di più Molti di più Purtroppo Cerco di fare Il possibile Dando anche Dei piccoli consigli Anche su Instagram Ma E Più complicato Perché ci vuole tempo Per seguire tutto Consigli all'inizio Di investire a lungo termine Sugli overrule alti Dipende dal budget Che hai Se hai un budget Astronomico Può aver senso Altrimenti Secondo me no Francesco Avendo lo stesso Su acquisto FIFA Direttamente Nell'Instant Gaming Sì Speramente Gli spam è uguale Comunque Ci dice Qualcuno Tipo Danne squad Squall Che è un bug E a volte esce Quindi magari prova a chiudere Rientrare Ciao fra Paolo Grazie per il prime Scrivi in chat Punto schermativo Discord Per accedere Al canale Abbonati Tortura Cosa consigliate Start Con serie A O premier Rapporto qualità prezzo Cosa sarà migliore Rapporto qualità prezzo Probabilmente la premier Rapporto prezzo divertimento Ti direi una serie A Cioè io partirei 100 100 volte Con una serie A Semplicemente Perché il nostro campionato È Più divertente Dai Oppure puoi fare un'ibrida Ormai quest'anno Sarà più facile fare ibride Sebastiano Al fine si è capito Se le 10 ore ci saranno Di Aplay Le 10 ore di accesso anticipato Ci sono Ma probabilmente Saranno disponibili Dal 27 settembre Quindi contestualmente Al rilascio della ultimate Ho sempre visto Pochi video di compraventa Ma quest'anno Mi ci vorrei impegnare A imparare cose in più Anthony Ci sta Secondo me Se hai piacere Ti consiglio di iniziare A seguire qualche live Qualche mie live E poi pian piano Impari qualche cosa Impari a fare qualcosa In autonomia Segui un po' di consigli E verrai che ti prenderà Ti diverti Paolo Pilo Ciao Sai per caso Quando esce il database completo Io credo che Da Metà settembre Potremo avere Qualche informazione in più Da metà settembre in poi Potrebbe anche essere Che in metà settembre Boom Buttano fuori Il database completo E via Quanto costerà L'SBC di Holland Fermo restando Che non è detto Che sia lui vincitore Ma Penso che Possa costicchiare Troppo Tanto 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 Anche magari Un po' dal prezzo Della carta oro Se la carta oro Se assestasse Sui 300k Il pot Potrebbe costarne Anche 500-600 Solo io Vedo il sistema Di intesa Più facile Di altri anni Anche sulle altre live Vedo panico Alla fine E' uguale L'anno scorsi Solo che non hai L'obbligo di intesa Tra giocatori vicini E poi mettere anche lontani Sì sì no ma Bisogna solo un attimo Secondo me Prenderci la mano Poi vedete che Una volta che Ci si prende la mano Fa tutto Tutto liscio come l'olio Musco you Le live a che ora Le farai come l'anno scorso Più tardi come ieri oggi Allora Le live di ieri oggi E delle prossime settimane Non sono da considerare A livelli di orari Semplicemente perché Avendo i lavori in casa Avendo i muratori in casa Devo adattarmi Ok Infatti avete visto anche oggi Sono partito più tardi Ieri alle Alle quattro e mezza Oggi quattro e quarti Vediamo Farò sicuramente Dei Dei sondaggi Su instagram Su discord Per vedere Quando preferite Poi vedremo di Incastrare bene gli orari Mia E lucio Senti Magari una domanda stupida Ma dimmi un po' I prezzi dei giocatori Chi li fa Tipo Chi stabilisce Quanto costa Militao Stanta k Allora Nessuno Stabilisce Quanto costa una carta È il mercato A stabilire Il prezzo della carta Sulla base di cosa Sulla base Del drop Della carta Quindi Quanto è facile Spacchettare Quella carta Cioè Quante volte Quel militao Esce nei pacchetti Sui pacchetti Che vengono aperti Nelle prime settimane Di foot In rapporto Con Il numero Di carte Acquistate Quindi Il numero Di copie Che vengono Comprate dagli utenti Quindi Per esempio Se Una carta È forte È spacchettata poco Perché è un over all alto Ed è molto richiesta Tipo Mendy Avrà un prezzo alto O magari Una carta Di pari Over all Di Mendy 83-84 Ma che magari Ha un Basso Utilizzo nel gioco Perché Ha delle stats Ridicole Tipo Dzeko Mi viene in mente Ok Della carta dell'anno scorso Che è inutilizzabile In game Ha una Basso Richiesta Di acquisto Questo vuol dire Che il prezzo Tenderà ad essere Molto basso Il meta Sarà lo stesso Di Fio 22 Tipo Il premier Scutori velocissimi Agilissimi Il meta Varia Sulla base Del gameplay Del gioco Quindi Fino a quando Non ci sarà Il gioco Completo Non esiste Un meta Chiaro che Potete guardarvi Video Di chi Ha Giocato La beta Ma comunque sia Non vi da una risposta Certa Non vi da una risposta Certa Perché Perché il gameplay Del gioco completo È Diverso Dal Gameplay Che avete visto Nella beta Ha fatto discord Ma non posso scrivere Nel gruppo Non è normale Allora Il nostro canale discord È un canale Vuol dire che Tu puoi vedere I messaggi Che io pubblico Ok Non puoi scrivere Normale Perché se no Ci sarebbe Tanta confusione Che non vi permetterebbe Di seguire i miei consigli Picciotto Come sarà meglio Gestirvi Fia points Ho fatto Un video A tal proposito Ti lascio il link Qua in chat Troverai Una Una leggenda Nel video E vai Nel momento Nel video In cui Parlo In cui parlo Di Come spenderli E hai Risposta O meglio Ai miei consigli Oggi Domande a manetta Ma così deve essere Ragazzi Così deve essere Comunque Quel nuovo tiro Già Lo Add In che senso È buggato Ah L'odio Ah ok 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 E immaginavo 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 Bisognerà imparare A utilizzarlo E sicuramente Può essere Che Dovrà essere Nerfato Non lo so Anthony A parere mio La cosa più bella Di ogni inizio FIFA Quando si inizia Con la squadra Bronzo E noti che dopo Due settimane Hanno fatto Gli upgrade Importanti Però Mi non piacevano I prezzi Beh oddio Partire con la squadra Bronzo No Perché già Se fai un minimo Di movimenti Di fare Compravendita Ehm Vedi Cioè parti Già come una squadra Oro Secondo me La parte divertente Di foot Sono i primi Mesi In cui Ehm In cui Come si chiama In cui si usa Una squadra oro Tutto qua La parte più bella Saluto Ho seguito tutti i passi Per fare discord Ma non vedo nessun gruppo Allora Guarda Come è spiegato Nel Nel command Discord Ehm Verifica Se hai fatto Il collegamento Da pc O browser Mobile Aspetta Un'oretta E nella sezione Collegamenti Troverai il canale In cui accederlo Lucio Lucio Farai quest'anno Il video su Footinator Quest'anno L'ho usato Per velocizzare La web app E mi sono trovato Dio Sì sì Quando sarà Disponibile Quando sarà Rilasciato Sì Assolutamente Magnifico Ciao super Lucio Ti seguo sempre Soprattutto su youtube Li ho commentato La carta gente Di Kvara Super tv Tutto l'anno Volevo chiederti Come posso ottenere I tuoi suggerimenti Di commenti Esclusivi quest'anno Ciao magnifico E grazie per il messaggio Allora Se ti abboni Al nostro canale Twitch Quindi questo Dove sta streamando Con Prime E' gratuito Canale Amazon Prime E' gratuito Oppure a pagamento Puoi entrare Come hanno fatto Gli altri ragazzi Nel canale Discord Dove avrete Consigli esclusivi Giornalieri Dal momento in cui Esce Io 23 Frappallo Risolto tutto Ricaricato la pagina A posto Meglio così A volte Sai E' come quando Si giocava con La Play 1 O l'Intendo 64 Si prendeva La cartuccia Si soffiava dentro Si rimetteva la cartuccia E funzionava E adesso è così Bastava Ricaricare la pagina Chiudere l'app Riaprirla Spegner Riaccendere E funziona così La tecnologia È È semplicissima È semplicissima Stav Leggo le squad builder D'anno scorso Disco È normale Vero Allora Quello che devi vedere È Il Sì Squad builder D'anno scorso È Sono le Le guide A quello Arriveranno Quelle nuove Quest'anno Quello che devi guardare È Il Il canale Dentro il nostro server Chiamato Compravendita Sub Che ha gli ultimi messaggi Di oggi Non so Se sono Il solo Ma in questo periodo Sto rigiocando Giochi strafiniti Tipo Z Kakarot Anche sapendo Che il 30 Sarà solo FIFA is my life Allora Il mio Periodo Di agosto E settembre È Un Giocare Tutti i giochi Che Anticipano FIFA Scusate Aspetta un attimo Che c'è una chiamata Pubblicità Mi rompono le balle Che non sono in live Per pubblicità Porca miseria Blocca E segnala Ok Dicevo Il periodo Il mio periodo Di agosto E metà settembre Prima che Cominciare Live È Giocare Quei giochi Che non ho avuto Tempo di giocare Durante l'anno Durante l'anno Purtroppo Poco tempo E gioco poco Quindi Tendo a giocare A giochi Che mi piacciono Cacarot L'ho finito Tempo fa Anche DLC Dav Si lo vedo Sì quelli sono gli ultimi messaggi Diciamo Chiaramente Siamo in attesa Di Di Come si chiama Di 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 Del rilascio Di FIFA 23 Quindi Ci sono Non trovi messaggi Con consigli Di compramenta Di Di oggi Perché Non ce n'è Ma Tra poco Inizieranno Ad arrivare Un po' di guide Guide per fare I primi crediti I primi consigli E le prime novità Maschico Ciao Questa live rimane sul canale Sì 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 Appena finisce la live Il video rimarrà Sul canale Twitch Allora ragazzi Anche oggi Ci siamo fatti Una bella chiacchierata Anche oggi Una mezz'oretta stretta Ma per il semplice motivo Che Cominciando tardi Per i lavori Una cosa Un'altra Lavoro Eccetera Abbiamo Non Tanto Tempo Ma Pian piano Stiamo ripartendo E riprendendo i ritmi Quindi Noi ci rivediamo Lunedì Lunedì Vi farò sapere l'orario Ma probabilmente Anche lì sarà Verso le 4 e mezza Sempre causa lavori Grazie per la compagnia Grazie per i nuovi abbonamenti Noi ci rivediamo Lunedì Qua Sul canale Twitch Vi aspetto Su Youtube Instagram TikTok Chi più ne ha Più ne metta Buona serata ragazzi E grazie per la compagnia Ciao a tutti Grazie per la compagnia